La pagina del cuore che De Amicis non ha scritto Vive a Bologna la decana delle maestre Augusta Rossi ha 98 anni e davvero ha insegnato a scrivere Se tra gli allievi che la ricordano c'è un giornalista come Miss Siroli Fa la calza, non perde tempo, lei che ne ha barcato tanto Tutti gli anni rievocati da queste vecchie carte La signorina Augusta vive in una stanza, il suo appartamento è occupato da sfollati Le porta agli auguri del comune un assessore, suo ex allievo Ma a ricordarla maestrina diciottenne, 80 anni fa, quando prese il diploma Pochi saranno sopravvissuti Alle molte lettere di scolare risponde nitida in bella scrittura, senza bisogno di occhiali Aveva 18 canarini Ma quando le è toccato di andare all'ospedale questo solo si è salvato Adesso le hanno regalato un galletto Ama le bestie Maestra di calligrafia detesta soltanto le zampe di gallina